Ragazzi buongiorno, oggi rispondo a questa domanda cosa fare se vi capita di staccare una settimana dei vostri allenamenti soprattutto se staccate una settimana ma non era programmata perché magari andate in gita magari avete una settimana di influenza e quindi non riuscite ad allenarvi magari il vostro capo vi manda una settimana per lavoro fuori città e non riuscite ad allenarvi cosa fare? Non dovete fare assolutamente niente, continua tutto in maniera regolare sfruttate quella settimana per far sì che il vostro corpo possa recuperare però esatto non fatevi delle storie mentali adesso per i risultati che avevo raggiunto assolutamente no, se vi allenate in maniera regolare ossia per una cinquantina di settimane comunque date regolarità ai vostri allenamenti perdere qualche settimana durante l'anno non succede niente anzi può essere persino vantaggioso per il vostro corpo perché è un modo per andare a recuperare completamente diciamo la fatica che portate avanti con le vostre sedute è un modo per andare a far rifiatare un po' le articolazioni, i tendini e i legamenti e anche a livello psicologico può essere una spinta motivazionale per quando tornate che sarete belli carichi e spingerete come non mai una settimana di stop non succede assolutamente niente cosa fare in maniera pratica? beh voi avete partito, siete partiti col vostro meso ciclo magari arriva all'improvviso questa settimana di stop ripartite pure da dove vi siete lasciati quindi fate ancora magari qualche settimana del meso ciclo che avete iniziato e magari in questo meso ciclo qua non fate lo scarico perché l'avete già fatto quando avete staccato completamente questo era un po' per rispondere a un ragazzo che mi ha fatto proprio in specifico questa domanda cosa fare quando si perde una settimana dei propri allenamenti non succede niente quindi non abbiate paura godetevi magari il momento che avete staccato se siete in gira, se andate fuori per lavoro non pensate solo all'allenamento se siete influenzati vabbè quello può capitare a tutti ci sta, non godetevi quel momento però passerà in fretta anche l'influenza e avrete tutte le forze per riprendervi e ritornare ad allenarvi più forti che mai io spero che anche questo breve contenuto questa breve pillola di allenamento sia stata di vostro interesse o comunque possa aver aiutato qualcuno di voi come sempre se i contenuti sono di vostro gradimento spolliciateci, si vede sempre qua sul mio canale ciao ciao ma che cosa stai aspettando? sei ancora qua? dai vieni sul mio sito umbertomiletto.com ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito a tutti grazie per la visione